Questi appuntamenti per quanto mi riguarda sono motivi di approfondimento sicuramente importante visto che i relatori erano maestri della disciplina, parliamo del CT Menichelli, parliamo del CT della nazionale russa e portoghese, quindi assolutamente personalità di tutto livello, di massimo livello, quindi è chiaro che ascoltando loro c'è da apprendere tantissimo e per chi come me crede molto in questa disciplina e crede che ci sia sempre da imparare, queste occasioni sono da non perdere assolutamente. Per l'intervento di allenatori importanti sul piano della nostra disciplina, nella disciplina che si chiama il futsal, qual è l'intervento che più le ha incuriosito? In realtà sicuramente quello del CT Menichelli perché ha parlato di gestione della squadra, del gruppo, quindi sono aspetti che per quanto mi riguardano sempre è stata la massima attenzione, tra l'altro su questo ho fatto la tesi qualche mese fa al corso di primo livello. Poi il CT Cialoce Brazza ha parlato invece per quanto riguarda l'organizzazione del calcio femminile in Portogallo che è in una fase di evoluzione enorme visto che lui poco fa ha detto e per sei anni l'attività è stata proprio a firma, poi è stato lui a volere fortemente che la stessa riprendesse e che adesso grazie al suo enorme lavoro sta ottenendo risultati importanti. Di ultimi il CT della Nazionale Russa sta parlando delle enorme ma veramente addirittura quasi maniacale, attenzione che tutta la federazione rivolge ai controlli continui che fanno sia fisici sia psicologici di tutte le squadre che sono non solo per quanto riguarda la nazionale, quindi non solo per tutti gli atleti che coinvolgono la nazionale, anche per quanto riguarda tutta l'organizzazione delle varie fasi nazionali del calcio a 5 russo. Il calcio a 5 russo che non lo dimentichiamo è una fortissima scesa, tant'è che la Russia nell'ultimo campionato era data più favore di rispetto alla Spagna, poi fortunatamente ci ha pensato l'Italia a metterli d'accordo tutti. Un'Italia appunto in crescita nel mondo del futsal, siamo campioni d'Europa, qual è il futuro del futsal nazionale e anche quello europeo secondo lei? Io ho avuto ragione di, per quanto riguarda l'eleo nazionale ho avuto modo di esprimere il mio estremo, ma veramente estremo piacere nel sapere che una persona come Roberto Menichelli guidi questo movimento, oltre che evidentemente come tecnico della nazionale, anche come persona che rappresenta l'intero movimento e ritengo come ho detto anche ai vostri microfoni in passato che persona più degna non ci possa essere. Con queste premesse penso che il futsal italiano stia in ottime mani e che probabilmente, anzi sicuramente otterrà risultati sempre di un certo spessore, quindi c'è da augurarsi che continuino questo trend positivo. A livello regionale tutti quanti noi addetti ai lavori e non addetti ai lavori notiamo una certa involuzione negli ultimi periodi. Spero che la stessa si fermi e che si riprenda a programmare con successo, si riprenda a pensare su cosa fare e su come farlo, affidandosi evidentemente a persone qualificate sia dentro che fuori dal campo.